La vostra barca è perfetta o pensate che possa essere migliorata? Questo è il posto ideale dove ottimizzarla dal punto di vista tecnico, il magazzino di Indemar. Sto cercando qualcosa che può cambiare completamente il controllo della barca, in navigazione e in manovra. Diciamo la verità, anche se siamo abili nelle manovre, piacerebbe a tutti avere un joystick per spostare facilmente la barca nella direzione che vogliamo. Sapete che potete installarlo su qualsiasi imbarcazione? Beh, basta sostituire il vostro vecchio impianto con uno nuovo, per esempio il sistema Optimus 360 di Seastar. Vediamo da cosa è composto. Abbiamo un sensore di posizione del timone, in pratica un encoder, che dialoga con dei cavi elettrici con una centralina, la quale a sua volta aziona una pompa che serve per muovere l'attuatore che abbiamo sul motore. Con questo sistema il controllo della barca non è semplicemente più facile, ma anche più docile, più preciso, progressivo, sicuro e confortevole. Non ci sono tubazioni in giro per lo scafo, ma soltanto cavi elettrici. L'impianto dialoga con tutti i motori che sono provvisti della tecnologia drive-by-wire e se avete per caso le vecchie manette, quelle con comando a cavo, potete sostituirle con quelle drive-by-wire di Seastar. Forse è arrivato il momento di sostituire il vecchio impianto con le nuove tecnologie. Grazie a tutti.